Un saluto a tutti Buongiorno a tutti Una situazione delicata per questo territorio, dettata soprattutto da una percentuale inferiore di vaccinati rispetto alla media, come lo stesso sindaco di Gradara, Filippo Gasperi, ha detto in questo servizio. Il 58% dei contagi nella provincia di Pesaro Urbino si sta registrando nei comuni di frontiera Frammarche e Romagna. I numeri del servizio sanitario regionale dicono infatti che Gabice Mare, Gradara e Tavuglia sono ad oggi territori in cui il virus circola con meno resistenza. Non è una novità, anche nelle precedenti ondate il nostro distretto, vuoi per la vicinanza con la Romagna e con il nord, ha sempre avuto dei numeri molto alti rispetto anche alle altre aree della regione Marche. Anche per la vitalità è un movimento che caratterizza il punto di vista non solo industriale o lavorativo, ma anche culturale e turistico. Quindi è giustificabile anche con queste circostanze. Il dato sul quale dobbiamo focalizzarci è l'occupazione dei posti letto negli ospedali in terapia intensiva, perché sappiamo benissimo che ormai in una quarta ondata la positivizzazione della popolazione può continuare a crescere di importante e che non si supri il livello di guardia delle ospedalizzazioni. Territori di transito, di confine, ma anche di ridotta propensione alla vaccinazione. Gabice è infatti la maglia nera provinciale in tal senso, con il 66% di popolazione vaccinata. Il che significa che un gabicese su tre non è immunizzato. Poco meglio, fanno gradare Tavuglia con altre percentuali da fondo classifica. Motivo per cui, sabato 4, 11 e 18 dicembre, torna a riaprirsi il punto vaccinale di prossimità della palestra di Gradara, a servizio proprio dei cittadini dei tre comuni in questione. Invece di riaprire il punto vaccinale di Gradara, che ricordiamo ha stato il primo della provincia di Paso Rubino, come punto vaccinale di prossimità ad essere aperto, assieme al comune di Gabice Mare e di Tavuglia, con la collaborazione dell'Asul, del distretto numero uno di Pesolo e dei medici di base. Ha funzionato tantissimo nei mesi estili prima del lì, nei quali abbiamo aperto per la prima volta il punto vaccinale. Abbiamo iniziato di riaprirlo proprio per cercare di porre rimedio a questa avanzata, questo quarto andato con nuovi positivi e dare la possibilità alle persone che vivono nel nostro territorio di vaccinarsi in modo più agevole, quindi con un punto sotto casa, con l'infermiere, con il medico di fiducia, è anche un modo per cercare di portare a vaccinare anche persone spaventate o dubbiose. Quindi un grazie di cuore anche alla soluzione di volontariato, all'Avis Gardara, all'Auser di Gardara, alla protezione civile di Gardara di Gabice Mare, che grazie al loro contributo e impegno hanno mantenuto e continueranno, per casi tre sabati in programma, a mantenere aperto il punto vaccinale di Gardara. E passiamo ora a parlare di Tavuglia e di una decisione che ha lasciato un po' tutti stupiti, visto che da qualche giorno lo striscione dedicato a Valentino Rossi è stato rimosso. A rimuoverla è stato un esposto alla soprintendenza da parte di alcuni cittadini tavugliesi e di fronte a questa situazione abbastanza paradossale è intervenuto il sindaco di Tavuglia, Francesca Paoluzzi. Sentiamo. Io mi sono insediata nel 2014, c'erano già, quindi sono oltre dieci anni ed è stata un'intuizione corretta quella di appendere dei manifesti di promozione turistica, perché poi non sono né pubblicitari e non sono affissioni. Improvvisamente trovati coinvolti in una situazione che è paradossale, perché è vero e noi lo rispettiamo assolutamente, tant'è che curiamo tutte le parti che sono storiche, ma allo stesso tempo abbiamo una storia più recente che è quella di una leggenda dello sport che in qualche modo promuove il nostro territorio, che mi verrebbe da dire non solo comunale, ma regionale e nazionale. ci troviamo a dover rimuovere così costretti a seguito di un esposto da parte di due cittadini, di una coppia di cittadini di Tavuglia alla sovrintendenza, la quale chiaramente seguendo le normative non ha pensato di mettere insieme le storie. e quindi chiederemo anche al Ministro Franceschini cosa poter trovare una soluzione che metta in pace sia la parte storico-culturale che la parte recente di un personaggio famoso in tutto il mondo, che poi in tutto il mondo, lo abbiamo visto dalle immagini dei Gran Premi, addirittura fanno dei murales giganteschi, fanno tantissime cose e noi non possiamo mettere un manifesto nemmeno con scritto Grazie Vale su uno sfondo giallo sulle mura del castello perché sono tutelate. Tutto ciò solo perché l'avvento a Tavuglia di tanti tifosi e siamo arrivati a 80-100 mila persone ogni anno, in tutto l'anno, che portano comunque un'economia a lavorare di un paese, quindi io lo considero anche un danno economico, oltre che di immagine per noi, persone che fanno un esposto di questo tipo, che vivono a Tavuglia da tanto tempo, consideriamo che sono 26 anni che si festeggia Valentino nel centro di Tavuglia, non è ieri, così come gli striscioni sono lì da oltre 10 anni, e adesso improvvisamente non vanno più bene. E a completamento del servizio, appena andato in onda con l'intervista al sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci, è notizia dell'ultima ora che attraverso un comunicato stampa lo stesso sindaco ha riferito di aver avuto modo di confrontarsi in questi giorni con la soprintendente per l'archeologia, belle arti e le paesaggio delle province di Ancone e Pesorulbino, Cecilia Carlo Rosi. La Paolucci l'ha definito un colloquio proficuo che si spera possa portare ad una soluzione condivisa che consente alla comunità di Tavuglia di omaggiare il numero 46, richiedendo le autorizzazioni previste e adottando gli accorgimenti che si renderanno necessari per salvaguardare le mura medievali. E con il Natale alle porte anche la città di Vallefoglia si è illuminata la scorsa domenica con l'accensione dell'albero di Natale in piazza della Repubblica Montecchio. Vediamo il servizio. Il 25 di dicembre si avvicina e oggi, 28 novembre, si accendono le luci qui in piazza della Repubblica a Montecchio. Un modo di coesione e di unione, come ha spiegato anche il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli. È un po' di luce sul futuro di questi territori, sul futuro di questo paese e speriamo più in generale superare quanto prima questa benedetta pandemia. È una serata importante, l'accensione delle luci è di buon auspicio, c'era un bel arcobaleno questa sera, quindi speriamo che sia anche questo un segnale importante. Come si vede, siamo costretti a stare anche all'aperto con le mascherine, quindi l'invito è sempre a fare i vaccini, a mantenere le distanze, a fare l'igienizzazione. Però è che è un segno anche di fiducia, di speranza, di futuro. Dietro alle nostre spalle c'è la Proloco che fa le Caldarrozzo, insomma il Vimbrulè, insomma come messaggio verso le feste di Natale, nonostante i limiti, nonostante tutto. Va un ringraziamento anche all'Ambima, che è l'Associazione Nazionale delle Bande Italiane, perché ha messo insieme la banda di Vallefoglia con quella di Montefelcino. E' un segnale anche questo di rinascita, di ripresa e di fiducia nel futuro, nonostante un momento molto difficile. Ringraziamo anche coloro che hanno lavorato in queste settimane, abbiamo anticipato, l'anno scorso era una settimana dopo l'accensione delle luci, quest'anno subito dopo Peserofano e del resto non siamo che la terza città della provincia di Pesero Urbino, quindi il giorno dopo, visto che loro hanno fatto l'accensione ieri, e quindi speriamo insomma di uscirne presto da questa situazione e di ritornare a vivere una vita normale, insomma. Non solo alberi di Natale e luminari, ma anche le chiese iniziano ad adobarsi a festa, in attesa delle Natale, come è accaduto ad esempio a Talacchio, dove una cittadina ha voluto esporre un presepe realizzato da lei totalmente con l'uncinetto. Vediamo. Angela Giacomini è l'artista che ha portato a termine questa bellissima rappresentazione del presepe. Che cosa l'ha spinta a compiere quest'opera? Allora, perché il Natale è una cosa bellissima che annuncia la nascita di Gesù e così ho pensato di realizzare questo presepe, tutto all'uncinetto per dare un significato in più, diciamo. Quanto tempo ci ha impiegato? Allora, da quest'estate ho cominciato sempre a fare qualcosina, poi dopo il mese di novembre è stato quello più lavorativo di più. Sono stati rappresentati quattro episodi importanti della nascita di Gesù, ci può spiegare il percorso? Sì, allora, prima di tutto c'è l'annunciazione che annuncia l'angelo Gabriele a Maria. Poi c'è la visita della cugina, che Maria va a visitare la cugina Elisabetta, che anche lei è incinta, e dopo arriva il Betlemme con il censimento e c'è Giuseppe e Maria che non trovano posto nell'albergo e vanno in una capanna e così, e lì nasce Gesù Bambino. Un'opera che abbellisce e che trasmette tanti valori. Ovviamente, come sappiamo, ogni presepe trasmette, oltre a un messaggio religioso, ma anche a una realtà culturale, perché si tratta di una realtà che noi ereditiamo da San Francesco, già dal Medioevo. Quindi una realtà come questa ci aiuta a pregare, perché è una realtà anche di evangelizzazione. Quindi attraverso il mistero di Dio che si fa uno di noi, è una realtà che necessita di segni e di luci. Ecco perché noi realizziamo questo presepio, che poi parla di questo grande mistero di Dio che si fa uno di noi, Dio che viene per divinizzare l'uomo. Ed a Talacchio ci spostiamo adesso a Montelabate, perché in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune ha reso noti i dati forniti da Marche Multiservizi per quanto riguarda l'utilizzo delle due casette dell'acqua presenti nel territorio comunale. Dagli impianti installati a Montelabate in Nevia Kennedy e a Osteria Nuova in Piazza Lombardi nel 2018, sono stati erogati poco più di 340.000 litri di acqua per un risparmio di 227.000 bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Un consumo consapevole, che ha consentito un'importante riduzione dell'uso di bottiglie PET ed anche un notevole risparmio economico. E da Montelabate ritorniamo a Vallefoglia, perché negli ultimi giorni stanno proseguendo i lavori di asfaltatura delle strade e delle vie del territorio comunale. Dopo aver terminato il rifacimento del nuovo manto stradale nei via Donzinetti e via Paganini, la ditta appaltante dei lavori è stata impegnata in questa settimana in Via Napoli, dove hanno provveduto la fresatura della vecchia pavimentazione stradale e terminato di stendere il nuovo tappetino di asfalto. Nei prossimi giorni i lavori procederanno nelle restanti vie di Montecchio, quali vie dei Cipressi, via Romana, e il letratto di collegamento tra Via Mozart e la pista ciclabile. Mentre nelle prossime settimane gli interventi di asfaltatura proseguiranno in tutto il territorio comunale. E dopo lo stop forzato a causa della pandemia l'anno passato, riprende quest'anno nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre la mostra a mercato Vallefoglia d'autunno. Tantissime le novità in programma, come vi mostriamo in questo prossimo servizio. Dopo lo stop forzato dalla pandemia riparte per la seconda edizione Vallefoglia d'autunno sabato 4 e domenica 5 di dicembre un modo per esporre i prodotti del territorio. Sì, è un'inistitiva quest'anno più limitata ovviamente nella piazza Repubblica Montecchio. L'obiettivo è quello di valorizzare tutti i prodotti tipici della vallata dal tartufo al miele all'olio extravergine d'oliva al melograno tutto quello che producono queste terre e dare una mano alla economia alle attività commerciali e anche diciamo l'obiettivo è quello di far diventare l'agricoltura, il turismo l'ambiente, il paesaggio, la storia un pezzo del sistema economico e produttivo della città di Vallefoglia e di questa vallata noi puntiamo molto sull'agroalimentare stiamo costruendo un progetto insieme alla regione, alla provincia all'università di Urbino quindi pensiamo che seppur con la mascherina seppur con la misurazione della febbre seppur con il green pass seppur con l'igienizzazione e il rispetto delle regole per evitare l'aumento dei contagi la gente deve pur anche vivere dopo due anni quindi diciamo delle forme di coinvolgimento dei cittadini anche dei bambini, delle famiglie pur con diciamo queste regole che ci devono aiutare a superare questa fase e uscire in avanti anche dal punto di vista dell'economia noi come Proloco portiamo come prodotti come cose da far degustare alla gente la piadina la piadina che facciamo sempre con diversi salumi tipo prosciutto, salame, lonza poi anche formaggio in più quest'anno ci facciamo anche facciamo anche le calde al rosto le castagne al rosto e il vin brulee che abbiamo visto che che è una sì la piadina sempre ma specialmente quando comincia a far freddo questo vin brulee comincia a essere proprio richiesto sia le castagne che il vin brulee quindi lo faremo e siamo convinti che la gente verrà quelli prodotti tipici si potranno degustare panettoni artigianali nonché i pani che sono soliti essere venduti in autunno quindi il pan nociato il pan col mosto eccetera il bagel che è un panino polacco nato nel XVII secolo però al tartufo e poi vera e propria chicca un brulee al negroni quindi un vero e proprio una vera e propria novità oltre a questo cioccolato artigianale e della ceramica da indossare e da abbellire la casa e come sempre concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport e iniziamo parlando di pallavolo la Megabox Vallefoglia ha infatti trionfato in casa per 3-7-1 nello scontro diretto contro Perugia dopo essere passati in svantaggio le ragazze di coach Bonafede hanno rimontato il punteggio scalando così la classifica raggiungendo il decimo posto a quota 9 punti un'ottima vittoria tenuta anche in vista della complicata trasferta a Novara in programma per domenica passiamo ora alle calcio alle campionato di eccellenza dove l'atletico Gallo col bordolo non è andato oltre le 2-2 casalingo contro il Fossombrone ritrovandosi attualmente in classifica ad un solo punto sopra la zona play-out in promozione invece è arrivato un buon punto per il case Porto Montecchio che nelle match disputato a domicilio dei primatisti dell'Osimana ha pareggiato 0-0 vittoria netto invece per il Valfoglia che dalla trasferta di Cantiano è uscito con un roboante 3-0 in prima categoria è andato invece l'atletico Tavuglia e il primo derby che nella trasferta a due passi da casa contro l'Osteria Nuova si è imposto per 1-0 e con lo sport si conclude questa nostra nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo magazine io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo il 10 di dicembre e vi auguro un buon proseguimento di serata